Mi è molto fastidioso, lo senti vero? Fa strano? Forse no. Buongiorno, sono Lidia Leoni, sono responsabile della piattaforma eletti sistemi di calcolo delle prestazioni del CRS4, sono responsabile del centro di calcolo e delle infrastrutture del centro, giusto per dare due numeri il centro di calcolo del CRS4 ha una potenza di 34 teraflop, giusto per far capire 34 teraflop sono 34 tra 10 alla 12, operazioni che si possono fare al secondo e a brevissimo avremo delle nuove macchine che praticamente quadruplicheranno la potenza di calcolo del centro, arriveremo a circa 130 teraflop appunto di potenza di calcolo. Abbiamo la possibilità di memorizzare dati fino a 5 petabyte, quindi 5 per 10 alla 15 byte di spazio, per dire, possiamo memorizzare tanti 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 film per dare un'idea. Allora, attualmente qua nel nostro centro ci sono diversi gruppi di ricerca che lavorano appunto e fanno girare le loro applicazioni. Buona parte di questo centro di calcolo viene utilizzato dalla piattaforma di genotyping, quindi la piattaforma di genotypizzazione è presente qua al CRS4, quindi vengono processati i dati. A brevissimo avremo una macchina che avrà dei coprocessori che sono proprio macchine che hanno pochissimi in Italia, quindi questo potrebbe permettere, permetterà alle nostre aziende che sono per esempio inserite al parco, alle aziende sarde o comunque anche ai nostri ricercatori di fare dei test su macchine che comunque da altre parti in Italia non hanno. Quindi possiamo fare, magari possiamo vedere che su queste macchine le nostre applicazioni invece che girare in un giorno, girano in 10 minuti, perché sono macchine che hanno una potenza di calcolo 100 volte superiore anche alla macchina standard. Giusto per dare un'idea, una macchina ha una potenza di calcolo di alcuni gigaflop, queste macchine hanno una potenza di calcolo di 3 teraflop, quindi passiamo a migliaia di numeri in più, di operazioni che si possono fare in più al secondo, quindi oltretutto sono sistemi anche che non necessitano di riscrivere completamente tutta l'applicazione, quindi questo effettivamente può essere molto molto utile non solo ai nostri ricercatori ma anche all'azienda sarde.